Oggi, amici miei, sono io che vi chiedo un contributo di riflessione. Mi spiegate esattamente, se è possibile, a che cosa mirano Bersani e D'Alema e anche Speranza? Me lo spiegate, perché io non lo capisco. Non capisco quali sono i progetti e i programmi che loro vogliono realizzare. L'unica cosa che capisco è che disapprovano tutto quello che fa Matteo Renzi. Forse, essendo abituati nell'era berlusconiana a disapprovare, indipendentemente dalla bontà o meno dell'iniziativa, tutto quello che faceva Silvio Berlusconi, forse non riescono ad adattarsi ad una situazione di normalità in cui basta dialogare, basta dibattere, basta confrontarsi intorno a dei progetti e dei programmi precisi. Però mi spiegate voi quali sono i programmi di Bersani e di D'Alema, a parte il fatto che sono contro Renzi, che Renzi gli è antipatico, che considerano Renzi un usurpatore anche se è stato messo al suo posto di segretario del partito con oltre due milioni di voti?